Il Giappone, come ogni paese, non è un posto perfetto. Certo, le cose funzionano bene, tutti seguono le regole e i treni arrivano in orario, ma anche la terra del sollevante ha i suoi lati oscuri e quello di cui vi parlerò oggi è decisamente il più agghiacciante. Ciao, belli dezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E nel file di oggi, credetemi, vi servirà tanto fegato perché è una di quelle storie che fa tanto, tanto arrabbiare. Ancora una volta ci troviamo in Giappone e giuro che prima o poi organizziamo un tour. Devo solo fare un itinerario, capire bene come funziona, proporlo a un'agenzia, tutte cose burocratiche. E a proposito, se qualcuno di voi pensa che riuscirebbe davvero a venire in tour in Giappone con me, me lo scriva nei commenti. Però sinceri, dovete essere sinceri come mai nella vita. Cioè, rispondete alla domanda, verreste in Giappone con me, con Andrew? Credetemi, il vostro commento sarà molto utile una volta che presenterò le mie proposte. Ma comunque non è la prima volta che parliamo di cronaca nera giapponese e come sapete, molto spesso queste storie che accadono in Giappone sono davvero molto crude, particolarmente macabre e spinte, ma anche molto inquietanti. Però è sempre giusto ricordare che il Giappone in realtà è una terra molto sicura, la gente cammina per strada tranquilla, anche di notte, e anche le donne. È davvero uno dei luoghi più sicuri al mondo. Ma ovviamente, come qualsiasi cosa, neanche il Giappone è perfetto. Perché nasconde un segreto, che probabilmente non conoscete, davvero oscuro. E con il video di oggi voglio svelarvi questo segreto, ma soprattutto cosa ha causato. Sto parlando del massacro di Saga Mihara. Già il nome che è stato dato a questa vicenda lascia poco spazio all'immaginazione, ma prima di parlare del massacro in sé, chiaramente dobbiamo parlare del contesto e della situazione, altrimenti sarebbe praticamente incomprensibile. Come saprete, il Giappone è una terra particolare. È sicuramente bellissima, certo, ma al tempo stesso molto particolare. Diciamo che ha delle regole tutte sue. Come credo sappiate, si tratta di un luogo in cui tutti o quasi tutti rispettano le regole ad ogni costo. Si potrebbe definire un paese conformista, in cui gli abitanti fanno di tutto per rendersi conformi alla massa e alla società. Seguono le regole, ma anche le mode, gli standard di bellezza e le linee di pensiere collettivo. In linea di massimo, eh. In generale. Ogni paese, infatti, è un po' così. Ma lì tutto questo è decisamente più accentuato. E per fortuna si tratta per la maggior parte di valori positivi, come la gentilezza, l'altruismo, valori del genere. Però poi ci sono altri valori che in teoria sono positivi, ma che finiscono invece per avvilire e stremare il popolo. Parliamo di valori come il rispetto e la dedizione. Come vi ho detto, in teoria sono positivi, ma lì vengono seguiti con così tanta ossessione da risultare molto tossici per i giapponesi. E tra questi troviamo anche un'insana pretesa di perfezione. Devono eccellere in tutto, altrimenti non si sentono abbastanza. Ed è la società stessa a non farli sentire abbastanza. Poi l'orgoglio. Oddio, l'orgoglio. Ormai dovreste sapere che essere orgogliosi è un'arma a doppio taglio per noi esseri umani. E in Giappone quest'arma è particolarmente tagliente. Nel senso che, per orgoglio, i giapponesi, in generale, decidono come comportarsi. Cosa possono fare, cosa non possono fare. E, insomma, molte decisioni vengono prese proprio pensando all'orgoglio. Parlo sempre in generale, poi ovviamente, come in tutto, ci sono le eccezioni. Ma in linea di massima, possiamo dire che è così. E un'altra cosa strettamente collegata all'orgoglio, e molto sentita in Giappone, è la vergogna. E nella storia di oggi parliamo proprio di orgoglio e vergogna. Perché dovete sapere che in Giappone c'è una cosa in particolare che ferisce l'orgoglio delle famiglie. E fa provare loro un senso di vergogna molto pesante. Ovvero le disabilità. E parlo di ogni tipo di disabilità, sia fisica che mentale. È un tabù così devastante che si cerca di non parlarne mai. Se ci pensiamo, anche qui è un po' così. Nel senso che si tende sempre ad evitare questi argomenti. Ma in Giappone, se qualche membro della famiglia ha delle disabilità, è davvero percepito come una tragedia. Pensate che fino a pochissimo tempo fa, fino al 1996, era legale cassare persone con malattie mentali o disabilità fisiche ereditarie. Ciò veniva fatto affinché queste persone non producessero figli, tra virgolette, inferiori come loro. Dio mio, è abbastanza un'atrocità questa. Diciamo che c'era una fortissima discriminazione nei confronti di chi aveva disabilità. Venivano proprio viste come persone inferiori, impure e immeritevoli. Solo adesso la situazione è un po' migliorata. Ma ci è voluto molto tempo prima di arrivare a questo risultato. Anzi, in realtà, questa discriminazione è rimasta leggermente ancora oggi. Perché, per esempio, se sei in sede a rotelle, alcuni taxi in Giappone sono autorizzati a rifiutare di darti un passaggio. Ecco, tutti questi sono dettagli oscuri sul Giappone, di cui quasi nessuno parla mai. E perdonatemi se ho un po' sviato dalla storia per raccontarvi queste cose, ma credetemi, era necessario. Perché ora parleremo del Tsukui Yamayuri-en, ovvero la struttura di cura per disabili, situata a Sagami-ara, nella prefettura di Kanagawa. E si tratta di un luogo in generale molto particolare. Perché l'intera Sagami-ara, in passato, era un luogo in cui venivano allenati i membri dell'esercito durante la guerra. Poi col passare del tempo è diventata una zona industriale, più o meno. Ci hanno costruito fabbriche, cose così. E adesso, in quel luogo in cui si addestravano persone ad uccidere, si trova la struttura che si prende cura dei più deboli, la Tsukui Yamayuri-en. Si tratta di una struttura che presta assistenza alle persone affette da vari tipi di disabilità. Quindi, è molto utile. Ma per i motivi di cui vi ho parlato prima, non è considerato proprio un bel posto. Eppure è molto operativo, e anche molto efficiente. Cioè, non si tratta di un tugurio in cui mandano le persone a morire. Anzi. Lo Tsukui, infatti, ospita 149 persone di età compresa tra i 18 e i 75 anni. Molti dei pazienti soffrono di disabilità fisiche e mentali, e per loro chiaramente c'è bisogno di assistenza costante. Mentre per altri, non è necessario, come per esempio per i pazienti affetti da sordità, cecità, condizioni del genere che rendono il paziente molto più indipendente. La struttura si trova nei pressi del lago Sagami, ed è composta da ben 21 edifici, tra cui 8 dormitori distribuiti su due piani, una piscina e una clinica. Il tutto su una superficie totale di 30.000 metri quadrati. Al suo interno ci lavorano ben 220 dipendenti, anche tra chi va e viene comunque. Nel senso, non persone che ci lavorano fisse, ma in totale di gente che ci lavora, anche saltuariamente, sono così tanti. Parliamo quindi di una struttura piuttosto grande e anche piuttosto attrezzata. L'entrata principale dell'edificio è tipo bloccata, mentre invece le porte dei singoli dormitori sono sempre accessibili per favorire l'assistenza dei pazienti che si trovano lì. All'interno della struttura, durante la vicenda che vi racconterò, si trovavano circa 150 persone, tra cui 8 assistenti e un addetto alla sicurezza. Parliamo di un luogo veramente utile, sicuro e che funziona bene. Ed è per questo che questa storia fa così tanto incazzare. È davvero tristissima e vi incazzerete, fidatevi. Mamma mia. Ora apro velocemente una parentesi, così potete incazzarvi anche voi. Allora, probabilmente sapete che in Giappone il tema della salute mentale è un grosso problema. Infatti, è uno dei paesi col più alto tasso di sui... al mondo. Lì, l'eccessiva efficienza del lavoro ha degli standard talmente alti da sfinire i lavoratori, così come anche gli studenti. Ne abbiamo parlato meglio nel video di Shinichiro. Se non l'avete visto ve lo lascio... qui. Qui. Comunque, la depressione, l'ansia, la paura del fallimento e lo stress sono condizioni ormai abituali per molti giapponesi. E ciò diventa un serio problema se a soffrire di queste cose è la persona sbagliata nel momento sbagliato e nel posto sbagliato. Sto parlando di lui. Satoshi Uematsu. Satoshi nasce vicino a Tokyo il 20 gennaio 1990. I suoi genitori fanno dei lavori riconosciuti e anche apprezzati in Giappone. Il padre è insegnante d'arte in una scuola elementare mentre sua madre è una mangaka che per chi non lo sapesse sono le persone che realizzano storia e disegni dei manga. Comunque, quando Satoshi ha solo un anno i suoi genitori si trasferiscono da Tokyo a Sagamiara dove rimangono in maniera piuttosto stabile. Il bambino cresce frequentando la scuola elementare locale poi chiaramente passa alle scuole medie e diciamo che è abbastanza bravo a scuola e non ha alcun problema con compagni oppure insegnanti. Anzi, molti compagni parlano di lui in maniera davvero positiva ma oltre ad essere bravo a scuola e avere voti alti cosa indispensabile per molte famiglie giapponesi Satoshi è anche molto simpatico. Gli piace giocare, scherzare e fa sempre ridere e divertire tutti. Nel tempo libero gioca a basket uno sport che gli piace moltissimo infatti lo pratica con regolarità e insomma tutto sommato sembra avere un'infanzia perfetta genitori bravi e amorevoli una carriera scolastica direi invidiabile e tanti amici con cui giocare e divertirsi ma come al solito se ne sto parlando io significa che in qualche modo finirà male. Infatti è alle superiori che la situazione per Satoshi inizia a cambiare drasticamente. Prima era un bravo ragazzino ma con l'adolescenza diventa un delinquente a tutti gli effetti e sinceramente non sono riuscito a capire il perché. Satoshi viene spesso beccato a rubare a bere alcolici senza freni e a danneggiare proprietà altrui come auto case e cose così. Dati questi comportamenti è scontato immaginare che prima o poi sarebbero arrivati problemi seri e infatti nel 2007 per la prima volta dovrà vedersela con la legge più o meno per finta diciamo. In quel periodo ha 17 anni quindi frequenta ancora il liceo e cosa fa il nostro Satoshi? Qui iniziamo ad incazzarci ve lo dico. In sostanza spinge a terra una persona disabile con la scusa che gli stava intralciando in cammino in qualche modo. Un gesto terribile e vergognoso ma anche preoccupante e questo infatti è il primo vero campanello d'allarme di questa storia ma tralasciando le mie considerazioni devo dirvi che non sappiamo come è stato punito per questo gesto perché banalmente non se ne parla. Dopo questo episodio semplicemente passa il tempo e Satoshi comincia a frequentare un'università privata come se nulla fosse e secondo me opinione mia questa aggressione del 2007 è stata messa in secondo piano per i motivi di cui vi ho parlato all'inizio ovvero per questa discriminazione nei confronti dei disabili però è solo una mia ipotesi e spero davvero di sbagliarmi perché sarebbe una cosa davvero tristissima ma tornando a Satoshi ironia della sorte finisce per iscriversi ad un programma per diventare educatore cioè Satoshi educatore il suo obiettivo è quello di seguire le orme di suo padre e diventare anche lui un insegnante delle scuole elementari ma ecco che succede una cosa piuttosto inaspettata i suoi genitori si trasferiscono di nuovo sempre vicino a Tokyo e lasciano Satoshi completamente da solo solo e quindi libero già da giovanissimo di fare quello che vuole in una casa tutta sua il motivo di questo trasferimento non è stato reso pubblico ma è possibile che la causa sia un litigio tra Satoshi e i suoi genitori verosimilmente per via dei suoi atteggiamenti criminali perché vi ricordo che faceva furti cose così ma in realtà non sappiamo cosa è successo davvero probabilmente il ragazzo si è comportato talmente male che i genitori si sono rotti le palle di averlo intorno e questa come al solito è solo una mia ipotesi comunque il punto è che il ragazzo adesso non ha freni e può fare letteralmente tutto quello che vuole si ritrova da solo con le sue idee contorte e come abbiamo visto in vari altri casi alla fine queste idee finiscono per diventare sempre più reali i suoi pensieri malsani lentamente gli fanno perdere la testa e lo trasformano in un vero e proprio mostro in realtà devo dirvi che uno dei tanti motivi per cui i genitori si sono allontanati da Satoshi è un tatuaggio può sembrare una scemenza una cosa da poco ma i tatuaggi in Giappone non sono per niente apprezzati per secoli interi gli unici giapponesi che avevano tatuaggi erano o i criminali oppure in tempi più recenti le bande mafiose le varie gang come la Yakuza tra queste persone i tatuaggi sono simbolo di forza e superiorità qualcosa che li distingue dagli altri civili che hanno una carnagione pallida spoglia e i loro occhi debole al giorno d'oggi si cerca un po' di sdoganare questo pregiudizio verso i tatuaggi ma non è per niente facile considerate che per secoli sono stati associati a persone malvagie e criminali quindi dai possiamo anche capire infatti tanti puristi ancora oggi li ritengono sporchi un po' da depravati e da gente poco raccomandabile e se dobbiamo essere sinceri Satoshi sta diventando esattamente così come vi ho già detto ruba di continuo e quando è ubriaco fa danni su danni si sente un po' ribelle e lo è decisamente ma oltre a tutto questo ha anche un grosso tatuaggio nella schiena cioè io i genitori li capisco pure forse non avrei abbandonato così mio figlio ma sicuramente capisco la paura che hanno provato nonostante tutto il ragazzo alla fine riesce a laurearsi nel 2012 ma i suoi piani per il futuro sono cambiati non gliene frega più niente di fare l'insegnante come suo padre invece si ritrova un po' in una sorta di limbo deve decidere che lavoro fare ma cambia costantemente idea passa dal voler diventare un tatuatore professionista all'idea di coltivare illegalmente della cannabis che non è un lavoro ma vabbè alla fine diciamo che prova a fare entrambe le cose ma non è molto bravo e fallisce miseramente in entrambe allora si mette alla ricerca di qualcosa di più stabile qualcosa magari di socialmente utile e pensate io sono rimasto abbastanza scioccato da ciò ma passa tutti i test e riesce ad entrare nel ramo dell'assistenza sociale cioè vedendo quello che farà in futuro fidatevi rimarrete scioccati anche voi anche perché viene qualificato per lavorare nel settore psichiatrico in questo modo trova un lavoro part time nella mal vista ma utilissima Tsukui Yamayuri-en ovvero la struttura di cura per persone affette da disabilità e ricordate cosa ha fatto a 17 anni? ecco infatti definirei la sua presenza lì dentro come anacronistica perché Satoshi con quelle persone e con quel tipo di lavoro non c'entra niente un ragazzo del genere sembra davvero fuori luogo in un posto così pensate che quando ha iniziato a lavorare lì era tutto sorridente e contento e non perché gli piacesse l'idea di aiutare gli altri figuratevi ma perché trovava le persone disabili carine kawaii what the fuck e già qui due domande me le sarei fatte lui diciamo che non ci azzeccava molto con la figura dell'operatore sanitario ma tant'è infatti non riesco a capire come ma col tempo viene addirittura promosso cioè sembra che nonostante tutto riesca a fare un buon lavoro ma non molto tempo dopo le cose cominciano a cambiare lui comincia a cambiare e questa volta toccherà davvero il fondo tra il 2014 e il 2015 viene beccato più volte a fare del male ai pazienti e parlo proprio di aggressioni fisiche a causa di questo la sicurezza e i controlli nei suoi confronti aumentano di smisura riceve anche svariati richiami ma sembra che tutto questo non serva a niente lui peggiora sempre di più se ne sbatte altamente del suo lavoro e soprattutto delle persone di cui invece dovrebbe occuparsi tanto che al 6 febbraio 2016 ne ha piene le scatole odia tutti e tutto riguardo quel posto e il clima si fa molto teso intanto la sua pazienza raggiunge il limite e io non so sinceramente perché cavolo non l'abbiano licenziato prima perché dai cioè come fai a far lavorare una persona così in una casa di cura per disabili è assurdo ma nonostante tutto appunto sempre il 6 febbraio 2016 decide lui di dare le dimissioni come vi ho detto si era proprio rotto le scatole non ne poteva più ma non si rendeva conto che il problema era lui comunque ovviamente sia il personale che i pazienti a questo punto sono felici che lui se ne sia andato e non c'è neanche stato bisogno di licenziarlo quindi sembra davvero perfetto sono proprio tutti contenti peccato che quella lì non sarà l'ultima volta che vedranno Satoshi lui tornerà a fargli visita intanto passa qualche giorno e Satoshi diventa un giovane adulto senza un lavoro il 15 febbraio 2016 pochi giorni dopo le sue dimissioni si reca a Tokyo per consegnare una lettera a mano e questa lettera è destinata al politico Tadamori Oshima che allora era il presidente della camera dei rappresentanti in Giappone non ho idea che cosa significhi comunque perché secondo voi Satoshi sta consegnando una lettera proprio a questo politico in sostanza per fargli una proposta vuole proporgli una nuova legge in questa nuova legge lui vuole sostanzialmente obliterare i disabili nel senso che chiede una legge per cancellarli per sempre dal mondo se in secoli passati queste persone venivano castrate e abbandonate a loro stesse ora Satoshi vuole proprio sradicarle dalla società vuole cancellarle dal pianeta perché le considera una piaga una categoria di persone infette che non possono essere curate e secondo lui in quanto infetti meriterebbero di morire il tutto sentite che assurdità per il loro bene immaginate quindi questo politico che si trova tra le mani un delirio del genere totalmente fuori dalla realtà probabilmente si sarà anche messo a ridere per quanto era assurda la proposta di legge proposta vabbè ma il resto della lettera non fa affatto ridere e sono sicuro che gli è passata tutta la voglia di accennare anche solo un sorriso Satoshi è serio non prende in giro nessuno ed è sicuro di quello che dice spiega che a prescindere dal fatto che questa legge verrà creata o meno lui presto compirà una strage e lo farà per apro le virgolette rafforzare il mondo dell'economia e prevenire la terza guerra mondiale chiudo le virgolette e non so cosa dire perché sono un po' senza parole cioè vi rendete conto di quanto ormai avesse una visione distorta della realtà ha ammesso che compirà una strage e non è tutto si firma anche con il suo nome e cognome neanche con uno pseudonimo non lo so e spiega che prenderà di mira due strutture che assistono le persone disabili dice che appena arriverà in queste strutture legherà i dipendenti di entrambi gli edifici per evitare che interferiscano col suo piano e conclude dicendo che solo alla fine di queste due stragi si sarebbe costituito lui stesso le ultime parole in quella lettera sono cito ora è il momento di compiere una rivoluzione e prendere una decisione difficile per il bene di tutta l'umanità chiuso le virgolette come avete capito questa lettera è a dir poco inquietante e leggendola il politico rabbrividisce quindi la manda alla polizia di Tokyo che la manderà a sua volta alla polizia di Sagamiara dove vive Satoshi e solo 4 giorni dopo il ragazzo viene arrestato fine del video assolutamente no purtroppo Satoshi viene interrogato dall'autorità che lo ritengono profondamente disturbato per questo lo mandano in un ospedale psichiatrico in questa struttura può finalmente sfogarsi e cercare di risolvere i suoi problemi che chiaramente lui non voleva risolvere ma tant'è fatto sta che si tratta di un periodo in cui in teoria poteva davvero migliorare ma ragazzi preparatevi ad arrabbiarvi tanto perché dopo solo 2 settimane Satoshi viene rilasciato e non sto scherzando nessuno sa perché e nessuno riesce neanche a spiegarsi il perché immagino che ci sia stato qualche problema burocratico o comunque non lo so cioè davvero non riesco a spiegarmelo e non ho neanche trovato informazioni sul web quindi pensate quanto è tesa la situazione la struttura in cui lavorava la Tsukui Yamayuri Yen è estremamente preoccupata in questo momento tutti sanno cosa aveva scritto in quella lettera e tutti sanno che la struttura è il suo bersaglio vengono quindi installate delle telecamere ma non per la sicurezza non so perché più che altro per controllare la routine dei pazienti e del personale quindi non ne vengono installate neanche tante ci sono ancora molti punti ciechi nella struttura banalmente perché non erano state installate per sicurezza anche se penso che avrebbero dovuto farlo cioè dai sai che un pazzo ha scritto ste cose come minimo aumenti la sicurezza della struttura no? vabbè a questo punto mi sembra quasi che ci sia una sorta di strana tolleranza nei confronti di Satoshi nei confronti delle sue azioni prima non viene punito a 17 anni per aver spinto un disabile e poi non viene licenziato per aver alzato le mani a dei pazienti e adesso addirittura viene rilasciato dall'ospedale psichiatrico dopo aver chiaramente dichiarato guerra alle persone disabili cioè non lo so trovo una cosa molto strana magari l'odio che prova Satoshi verso i disabili è silenziosamente condiviso o condiviso almeno in parte e la gente se ne vergogna per cui silenziosamente gliela fa passare liscia non lo so forse sto facendo pensieri un po' da complottista probabilmente non è andata così sta di fatto che Satoshi è libero è pericoloso e ha pianificato tutto e sembra che nessuno stia facendo niente per fermarlo è il 25 luglio 2016 Satoshi prende un pullman e si dirige verso Tokyo per andare a casa dei suoi genitori una volta arrivato ruba parecchi coltelli dalla casa e li mette dentro uno zaino poi ritira la sua auto che per qualche motivo si trovava lì quindi parte e si dirige verso un negozio dove compra un martello e una fascia dopodiché si reca nel quartiere di Tokyo chiamato Shinjuku dove si tinge i capelli color giallo biondo ma no giallo tipo oro se li decolora e incontra una ragazza verso l'ora di cena i due vanno in un ristorante e lì Satoshi le parla della lettera che aveva mandato al politico ma la ragazza non capisce proprio bene diciamo che non lo prende seriamente purtroppo non sappiamo chi sia questa ragazza né che rapporti avesse con Satoshi fatto sta che le ore scorrono e dopo un po' il ragazzo va via molto tardi ormai è l'1.27 di notte per essere precisi e le telecamere della Tsukui Yamayuri-en riprendono una onda nera che si parcheggia nei pressi della struttura l'auto accosta in una stradina secondaria e subito dopo la portiera si apre si può vedere un uomo scendere dalla vettura che subito si dirige verso il bagagliaio e tira fuori uno zaino sicuramente avete già capito che si tratta di Satoshi ecco di preciso la zona in cui si trova è alle spalle della struttura e a pochi metri sempre sulla stessa via c'è una finestra del primo piano Satoshi quindi si avvicina prende il martello acquistato qualche ora prima e spacca la finestra da lì si introduce illegalmente nella struttura il ragazzo sa fin troppo bene come funziona quel posto e sa anche quante persone ci sono e dove si trovano se ci pensate aveva lavorato lì fino a poco più di un mese prima quindi è chiaro che ricordasse tutto infatti già sapeva che entrando da lì nessuno l'avrebbe né visto né sentito ma una cosa non la sapeva non sapeva delle telecamere che se ricordate erano state installate dopo che lui ha dato le dimissioni e infatti viene ripreso ma al momento purtroppo non si rivela una cosa molto utile una volta dentro infatti riesce a immobilizzare i primi dipendenti che trova li lega li imbavaglia prende le loro chiavi se le infila in tasca e comincia a vagare per la struttura grazie a queste chiavi è libero di entrare ovunque di andare in ogni stanza e infatti ogni stanza e ogni singolo angolo della struttura diventano accessibili e diventano anche il suo obiettivo molti pazienti dato che è tardi stanno dormendo e non si accorgono di questa losca figura che si aggira tra le loro stanze ma lui intanto passa indisturbato a far visita ad ognuno di loro l'edificio ha una forma serpentina più o meno così quindi cioè che fa così e lui essendo entrato sul retro dalla parte est comincia da lì e si fa tutta l'area fino alla parte ovest poi torna indietro ma non è che cammina e basta ragazzi Satoshi si assicura di entrare in ogni singola stanza ed entra un po' nella parte di un mietitore in questo modo alla fine si prende le vite di quelle persone che considerava tanto impure e schifose le massacra usando quei coltelli da cucina infine ragazzi elude la sorveglianza in qualche modo e sale fino al secondo piano dove di nuovo toglie altre vite innocenti ora capite perché viene chiamato massacro ecco e dopo averlo compiuto fa una cosa davvero inquietante e di cui abbiamo le prove esce dalla struttura indisturbato sale in macchina e realizza di aver finalmente compiuto il suo sogno nella sua testa in qualche modo questo gesto avrebbe impedito la terza guerra mondiale quindi è contento ci ha messo solo 40 minuti a compiere quella strage e sappiamo per certo che è contento perché appena arriva sulla sua auto ha la geniale idea di farsi un selfie e pubblicarlo su twitter è vestito elegante è uno sguardo agghiacciante se pensiamo a cosa ha fatto i suoi occhi sono lucidi come se avesse pianto ma sorride con un sorriso strano però un sorriso diabolico e al tempo stesso malinconico è una foto davvero terrificante e forse ancora più terrificante la descrizione in cui scrive bellissimo giappone cioè lui pensa di aver fatto una rivoluzione un atto coraggioso che renderà grande il suo paese si sente davvero un eroe come se avesse dovuto fare una cosa ingiusta per un bene comune e appena pubblica la foto mette in moto e fugge via nonostante sia stato bravo a deludere la sorveglianza in realtà qualcuno si è accorto che stava succedendo qualcosa di strano quindi questo qualcuno che non so chi sia ha chiamato la polizia e poco dopo è arrivata sulla scena però come sapete è troppo tardi il massacro di Sagamiara è stato compiuto e ora vi renderete conto della gravità della situazione per portare via tutti i feriti infatti ci sono volute ben 29 ambulanze le persone morte sono state in tutto 19 9 uomini e 10 donne mentre i feriti 26 tra cui 13 in condizioni molto gravi per tutte le vittime è stato preteso l'anonimato quindi non sappiamo niente di loro anzi solo una per volere del padre è stata resa nota al pubblico si tratta di Takako Noguchi una delle persone che sono rimaste gravemente ferite il motivo per cui hanno preteso la segretezza degli altri nomi è sempre per via della discriminazione e della ferita nell'orgoglio perché vi ricordo che nella cultura giapponese la disabilità viene vista come una vergogna non solo per il disabile ma anche per tutti i familiari rivelando i nomi quindi sarebbe stato quasi imbarazzante per le famiglie sarebbe stata una vergogna e la trovo sinceramente questa una cosa davvero atroce cioè in questo caso la vergogna e la discriminazione superano addirittura una tragedia come questa e questa cosa Satoshi la sa molto bene si è letteralmente ossessionato di questo lato oscuro del Giappone tanto da farlo diventare la sua unica ragione di vita nella sua testa voleva anche liberare queste famiglie da un peso da una vergogna cioè è davvero terribile però torniamo un attimo a quella notte circa due ore dopo la strage l'uomo sarebbe dovuto andare in un'altra struttura simile come aveva anticipato nella sua lettera ma invece non lo fa non uccide nessun altro ma rimane fedele a ciò che aveva scritto e va a costituirsi prende la macchina e si dirige verso la stazione di pulizia del distretto di Tsukui e una volta arrivato spiega nel dettaglio tutto quello che ha fatto gli agenti sono increduli e lo trattengono lì mentre danno un'occhiata alla sua auto all'interno della vettura oltre al volante sporco di sangue trovano lo zaino con dentro i vari coltelli da cucina che sono tutti insanguinati quindi poco dopo Satoshi viene portato via in una volante della polizia e gli viene coperto il volto ma appena il ragazzo vede fotografi e reporter si toglie la copertura e si fa fotografare mentre sorride e si vede proprio che è praticamente fiero di quello che ha fatto si è tolto la copertura voleva che la gente sapesse che era stato lui voleva essere riconosciuto come l'eroe che ha salvato il Giappone in qualche modo la notizia chiaramente diventa subito uno scandalo mediatico e circola in pochissimo tempo e sconvolge tutto il Giappone le persone sono devastate perché nessuno era pronto ad una cosa del genere cioè oddio qualcuno poteva anche immaginarselo dato che Satoshi aveva scritto quella lettera però vabbè alcuni suoi vicini però per esempio sono rimasti sorpresi quando hanno saputo che era stato lui a commettere gli omicidi perché lo avevano sempre visto come una persona amichevole tranquilla e addirittura pensavano che fosse un buon assistente sanitario alcuni invece al contrario hanno affermato che il suo comportamento era cambiato drasticamente dopo aver lavorato al centro di assistenza l'unica cosa certa in questa storia è che si tratta di una strage che si poteva evitare in migliaia di modi veramente cioè se solo avessero fatto rimanere Satoshi per più tempo nell'ospedale psichiatrico secondo me le cose non sarebbero andate così ma ormai è troppo tardi e nonostante tutto bisogna andare avanti con il caso bisogna preparare tutto per un processo il processo si è dilungato per molto tempo perché spesso Satoshi nelle varie udienze è stato considerato incapace di sostenerlo a causa di vari disturbi mentali poi la difesa ad un certo punto ha affermato che durante la strage era incapace di intendere di volere perché aveva fumato della marijuana ma si tratta di un'affermazione molto vacillante perché anche se fosse comunque aveva premeditato tutto e ci sono le prove tra l'altro in aula Satoshi ammetterà la sua colpevolezza e andrà addirittura contro la sua stessa difesa senza mostrare mai alcun rimpianto anzi i giornalisti lo riprendono sempre sorridente o peggio con una faccia inquietante davvero psicopatico ci sono delle foto ragazzi e si vede che chiaramente non è pentito di quello che ha fatto è chiaro che avesse una visione distorta della realtà e alla fine di tutto il 16 marzo 2020 Satoshi Uematsu viene condannato a morte per impiccagione come si fa sempre in Giappone Satoshi rimarrà in carcere nel braccio della morte senza sapere quando verrà giustiziato ai condannati a morte giapponesi infatti non viene mai detto quando sarà la data dell'esecuzione potrebbe essere qualsiasi giorno pensate che ansia ma di solito questa attesa nel braccio della morte può durare anche fino a 20 anni è davvero una lunga agonia un'attesa infinita ma che per lo stato e per molti cittadini è più che ragionevole dato che i criminali condannati a questa pena hanno commesso atti orribili in tutto ciò sembra che la struttura in cui è avvenuta la strage sia ancora aperta nonostante tutto il ministro giapponese Yoshihide Suga ha espresso le sue condoglianze alle vittime e ha dichiarato che l'attacco è stato un incidente scioccante nel quale degli innocenti sono diventati vittime senza alcun senso e pensate persino Papa Francesco ha espresso grande dolore per le vittime della strage e ha comunicato la sua vicinanza a tutti i parenti dei deceduti ma purtroppo sui social molta gente difende Satoshi principalmente gente che condivide i suoi stessi ideali gente che pensa che le persone disabili dovrebbero essere eliminate e lo pensano perché non producono nulla per la società e quindi pensano che sia giusto che vengano eliminate vabbè la quantità di persone così che pensano così è davvero allarmante alcuni media giapponesi hanno definito il massacro come un crimine d'odio e non hanno tutti i torti Satoshi ha voluto costringere il mondo ad osservare mentre realizzava questa sua visione distorta spinta dall'odio e il problema è che ciò che lo ha spinto ad agire non sembra altro che l'estremizzazione di pensieri che già esistono nella sua società e che ancora non solo in quel paese rimangono tutt'oggi resta però anche il dubbio su come si è arrivato a definire i disabili come gente impura possibile che sia solo un pregiudizio possibile che sia stato così tanto deviato da questa credenza è strano perché aveva anche studiato psicologia voleva fare l'insegnante e all'inizio era molto bravo con i pazienti disabili perché tutto è cambiato credo proprio che a queste domande non troveremo mai una risposta quindi lo chiedo a voi provate a rispondere voi cos'è successo davvero nella mente di Satoshi perché è cambiato in questo modo e soprattutto cosa pensate del fatto che così tante persone la pensino come lui fatemi sapere ogni cosa qui sotto intanto io ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che molto presto vi parlerò finalmente della storia di una persona per certi versi simile a Pazuzu il ragazzo di cui vi ho parlato la scorsa settimana quindi mi raccomando spero che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi ricordate di massacrare i pulsanti iscriviti e adesso parlo con te sì proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao ciao